Ok, Robin Hood, due domande. Chi sei e che cosa vuoi? Nessuno, e non sono affari tuoi. Ma sei con qualcuno, ho sentito piangere. L'hai trafitto con una freccia. Cosa? No. Non c'è nessun altro. E me ne vado anch'io. Ciao. Aspetta, sei ferito. Sto bene. Non mi importa di te. Mi hai rubato il nostro kit medico. Sei tu che saccheggiate il nostro campo. Questo non dovevi dirlo. Perché adesso abbiamo un problema. Non voglio che si sappia che sono qui. E ho la sensazione che tu parli troppo. Tu prova a toccarmi e io urlo come una pazza. Probabilmente. Ferma, calmati. Non ti farò del male. Questo è sicuro. Voglio solo che tu non dica niente. Già che sei qui, puoi farmi un favore. Sì, certo. Aiuto sempre i riccioli strani e sinistri che mi minacciano nel bosco. Nessuna minaccia. È uno scambio. L'hai perso quando sei caduta. Quella è la tua pedina di scambio. Tienilo pure. Me lo ricomprerò una volta a casa. E poi su quest'isola non serve. Non c'è segnale. Sì che c'è. Ma soltanto in un punto. E a giudicare dalla tua faccia vuoi chiamare qualcuno. Allora, tu aiuterai me. Ed io ti porterò dove c'è il segnale. Allora, tu aiuterai me.